Non riusciamo a vivere all'interno della nostra casa, è un'esperienza brutta. Infatti ancora dormiamo sopra le sedie, non riusciamo ad entrare in camera da letto dove loro sono stati. Ormai non si dorme più, oltre una ventina di furti messi a segno, più del doppio i tentativi. Una vera psicosi che ha colpito i comuni di San Potito Sannitico, Piedimonte Matesi, Alife, Dragoni e Gioia Sannitica. Il sindaco di Piedimonte Luigi Di Lorenzo insieme ai cittadini chiede a gran voce l'esercito, tanto da mobilitare anche le reti nazionali. Domani sera, 8 gennaio alle ore 20.30, in diretta televisiva da Piazza Roma a Piedimonte Matese, Maurizio Belpietro della trasmissione Dalla Vostra Parte incontrerà la piazza per farsi raccontare le drammatiche esperienze vissute in queste ore e i racconti di chi ha anche rischiato la vita, nonostante la mobilitazione delle forze dell'ordine, che non stanno affatto vivendo ore tranquille. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it